Cioè nel momento in cui noi ci scambiamo queste dimensioni, nel momento in cui le comunichiamo anche a chi ci sta vicino, a chi incontriamo, beh noi in questo momento stiamo facendo realmente evangelizzazione. Stiamo cioè comunicando la ricchezza del Vangelo anche se non l'abbiamo capita fino in fondo, ma quante volte anche noi predicatori con le nostre omelie, con le nostre riflessioni, ma non è che noi comprendiamo tutto il testo sacro. Il Papa ha una bella citazione di un diacono, un santo diacono, Efrem il Siro, dove dice proprio questo, dice ma se tu dovessi andare alla fonte e prosciugare la fonte un'altra volta che avrai sete non avrai più dove andare. E invece la parola di Dio non è questo, la parola di Dio è qualcosa di estremamente inesauribile, per cui cerca sempre di avere sete e troverai sempre qualche cosa che verrà soddisfarti.